Benvenuti nel mondo degli orologi Frank Dubarry. Frank Dubarry è un marchio di orologi di lusso fondato nel 2011 dal designer francese omonimo. Il marchio si è rapidamente affermato nel mondo dell'orologeria grazie alla produzione di orologi dal design innovativo e tecnologicamente avanzato. Gli orologi Frank Dubarry presentano un design moderno e sofisticato. La tecnologia è al centro del design degli orologi, che presentano funzioni avanzate come il cronografo, il calendario perpetuo e la visualizzazione GMT. La vasta selezione di orologi Frank Dubarry spazia dai modelli più classici a quelli più futuristici e innovativi. Tra i modelli più popolari ci sono il Crazy Wheel, caratterizzato dalla sua cassa in titanio e dal suo design unico, e il Revolution GMT, caratterizzato dalla sua funzione di visualizzazione del secondo fuso orario. I materiali utilizzati da Frank Dubarry sono innovativi e tecnologicamente avanzati, come il carbonio, il titanio e i materiali compositi, che conferiscono agli orologi leggerezza, resistenza e durata. Il marchio Frank Dubarry è riconosciuto a livello internazionale per la sua alta qualità e l'eccellenza nella produzione di orologi di lusso. La sua reputazione è stata costruita grazie alla passione e alla dedizione del suo fondatore, che ha messo il suo talento al servizio dell'orologeria di alta gamma. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso che unisca design innovativo, tecnologia avanzata e sostenibilità ambientale, Frank Dubarry è la scelta perfetta per te.